Ciao a tutti. Siete nel canale Impulso della Terra. Ricordatevi di iscriversi nel canale per essere sempre aggiornati di ultimi notizie. Buona visione. In Uruguay, i forti incendi boschivi, che hanno iniziato a crescere dal 3 gennaio, non si placano. Oggi il focus è sul dipartimento di La Valleja, situato nella parte sudorientale del paese. L'incendio ha già distrutto 22.000 ettari di vegetazione e sta mettendo in pericolo i residenti locali, poiché alcuni incendi si trovano a 150 metri dalle case più vicine. Uno dei grandi incendi si è verificato vicino all'aeroporto di Rivera, le attrezzature aeree sono state coinvolte nell'estinzione dell'incendio. E il più grande incendio a Peisandue e Rio Negro ha devastato 37.000 ettari e continua a crescere nonostante tutti gli sforzi dei vigili del fuoco. Secondo le previsioni dei meteorologi, la situazione non migliorerà nei prossimi giorni. Un forte calore e un minimo di precipitazioni, oltre a un forte vento con raffiche fino a 25 metri al secondo, favoriranno solo la crescita del fuoco. Secondo le autorità locali, gli ultimi cinque grandi incendi scoppiati tra le città di Algorta e Piedra Saltas sono stati provocati deliberatamente. Nella regione di Sakalin, a causa di un potente ciclone di neve, oggi, 12 gennaio, il traffico sulle strade regionali è stato bloccato. Sul territorio di 10 distretti sono presenti abbondanti nevicate, una bufera di neve con visibilità fino a 500 metri o meno con un vento medio di 17 metri al secondo e raffiche fino a 30 metri al secondo. Secondo l'amministrazione comunale, per lo sgombero delle strade sono coinvolte oltre 200 apparecchiature. I cumuli di neve vengono puliti sia sulle strade che nei piazzali, vicino alle fermate degli autobus. I meteorologi prevedono una tale situazione meteorologica per almeno due giorni. Il 14 gennaio gli elementi inizieranno a indebolirsi. In alcuni luoghi sono possibili deboli tempeste di neve e raffiche di vento. A questo proposito, i cittadini sono invitati a coordinare le loro azioni, a limitare il più possibile gli spostamenti in città, e anche a non lasciare il quartiere cittadino senza un'urgente necessità. Si consiglia ai residenti delle aree remote di Yuzno-Sakalinsk di tornare a casa in anticipo oggi in modo che in caso di peggioramento delle condizioni meteorologiche non rimangano intrappolati negli ingorbi di neve. In Transvaicalia persiste una situazione difficile con il rilascio di acque sotterranee in superficie. Gli elementi hanno inferto il colpo più grande ai distretti di Sretensky e Baleisky. Le acque sotterranee hanno già allagato diversi appezzamenti domestici, ai residenti è già stata offerta l'evacuazione in un centro di alloggio temporaneo. Ora in tutti gli insediamenti viene effettuato il riempimento per prevenire le inondazioni. Nell'area del villaggio di Kokui, nel distretto di Sretensky, le acque sotterranee hanno riempito la diga e l'hanno attraversata fino al villaggio. In sei insediamenti del distretto di Sretensky è stato introdotto un regime di emergenza a causa del rilascio di acque sotterranee. In precedenza, le strade di Kokui erano allagate. Sulle strade del comune, il viaccio viene rimosso dai militari con mezzi pesanti. Si noti che il problema persiste in altre parti della regione. Dal 9 gennaio il vulcano Merapi è costantemente attivo. La natura regolare delle sue eruzioni che si tratti di lava o cenere gassosa provoca seria preoccupazione tra gli specialisti. Sulla base dell'intensità e dei dati osservativi, non escludono che un'eruzione vulcanica esplosiva possa verificarsi nel prossimo futuro. Questi fotogrammi mostrano l'ultima eruzione registrata di Merapi. Un fiume di lava incandescente scivolava lungo i pendii e si estendeva per un chilometro e mezzo, l'eruzione è stata esplosiva, ma non prolungata. È durato poco più di due minuti. Vale la pena notare che, secondo i vulcanologi, il volume della cupola lavica a sud-ovest di Merapi è ora di poco inferiore a 670.000 metri cubi. E il tasso della sua crescita al giorno è di circa 5.700 metri cubi. In considerazione dell'attività di Merapi, gli scienziati indonesiani mantengono l'indicatore di rischio vulcanico della regione a livello 3. Tutti i servizi sono in modalità stand-by. Ad oggi, 138 città del Brasile hanno dichiarato lo stato di emergenza. Le autorità brasiliane hanno affermato che le piogge che hanno colpito lo stato brasiliano di Minas Gerais martedì hanno ucciso 10 persone in un solo giorno. Nello stato di Minas Gerais, il secondo più colpito dalle forti piogge, circa 3480 persone hanno perso la casa. In Brasile la situazione è ormai ambigua, mentre nel sud del paese si registra una forte siccità e caldo, il nord è inondato da piogge record. Naturalmente, tutto questo non passa senza lasciare traccia. Le condizioni meteorologiche estreme hanno provocato perdite di raccolto nelle piantagioni di caffè, i campi di mais sono stati colpiti e i raccolti di soia sono stati gravemente colpiti. Le forti piogge hanno costretto Valesa, il secondo produttore mondiale di minerale di ferro, a interrompere alcune delle sue operazioni minerarie nello stato di Minas Gerais. Il 90% delle miniere è stato completamente allagato. Il sistema meteorologico ad alta pressione, che ora si sta spostando in Paraguay, indebolirà, anche se non fermerà, le piogge che stanno inondando il nord del Brasile. Il caldo anomalo ha coperto l'Argentina. La temperatura dell'aria, che martedì ha superato i 40 gradi Celsius, ha causato un sovraccarico della rete elettrica nella capitale argentina. A causa dell'interruzione di corrente, centinaia di migliaia di case sono rimaste senza elettricità, condizionatori d'aria e frigoriferi funzionanti. Secondo gli esperti, la rete non era pronta per una situazione del genere, a un certo punto si è verificato un guasto, a seguito del quale oltre 700.000 residenti sono rimasti senza elettricità. I salti di tensione hanno interessato anche l'approvvigionamento di acqua potabile a Buenos Aires. Ad esempio, una delle società ha chiesto ai residenti locali di astenersi per un po' dal consumo eccessivo di acqua, poiché l'interruzione di corrente ha avuto un forte impatto sui suoi sistemi di depurazione. Secondo le previsioni dei meteorologi, l'ondata di caldo che ha colpito l'Argentina durerà almeno una settimana. Si prevede che il termometro non scenda sotto i 37 gradi, i picchi di temperatura saranno di circa 41 gradi Celsius. Naturalmente, tali condizioni meteorologiche hanno dato impulso allo sviluppo degli incendi boschivi, che non si placano in molte città dell'Argentina. Il governo argentino sta imponendo un regime di emergenza nazionale per un periodo di 12 mesi a causa dell'alto rischio di nuovi incendi nelle foreste e nei pascoli. Nelle ultime settimane violenti incendi hanno divampato nelle province meridionali dell'Argentina di Santa Cruz, Chubut, Rio Negro e Noiquen, nonché nella provincia di Formosa, nel nord del paese. Più di 200 vigili del fuoco e 12 elicotteri sono coinvolti nella loro estinzione. Le autorità provinciali del Chubut hanno già emesso un'ordinanza per domare l'incendio con tutti i mezzi disponibili e valutano la situazione come molto grave. La situazione è complicata dal fatto che i centri di propagazione del fuoco si trovano in luoghi estremamente inaccessibili, il che complica il compito di combattere gli incendi. A causa degli attuali incendi boschivi, 5 persone sono morte, 2 delle quali sono vigili del fuoco. Inondazioni alla Mecca, Arabia Saudita. Dopo la grande grandinata di ieri in Arabia Saudita, oggi sono cadute forti piogge, che sono diventate la causa delle inondazioni locali. Alcune strade e strade della Mecca furono sommerse, a causa della quale il traffico era difficoltoso. La protezione civile è stata coinvolta nell'assistenza alle persone nelle aree colpite della città. Prima dell'inizio del maltempo, le autorità hanno avvertito le persone di forti piogge e temporali alla Mecca e in molte altre aree. Secondo i media locali, diverse persone sono state spazzate via dai impetuosi corsi d'acqua, la ricerca dei dispersi continua. Gli utenti dei social network, come sempre, hanno reagito immediatamente all'emergenza pubblicando nei loro account le prove in tempo reale del disastro. Il servizio di protezione civile del regno ha invitato i residenti della Mecca e di Jedda a stare lontano dalle strade. Un enorme incendio è scoppiato nell'umile area di Iquic, nel nord del Cile, dove più di 100 case sono state distrutte da un incendio e 400 persone hanno dovuto essere evacuate. Fonti ufficiali indicano che a seguito dell'incidente, più di 20 persone sono rimaste ferite e non si sa ancora cosa abbia causato l'incendio. Il campo si chiama, Laguna Verde, la maggior parte dei suoi abitanti sono clandestini che vivono in precarie casette di legno, che purtroppo fungono da fonte di accensione per la rapida propagazione del fuoco. La lotta all'incendio ha complicato la densità dell'edificio e la mancanza di acqua sufficiente. Inoltre, la regione sta vivendo un caldo incredibile da più di due settimane, poche ore dopo l'inizio dell'incendio, le autorità hanno dovuto annunciare un «allerta gialla». Circa sei vigili del fuoco hanno subito colpi di calore e ferite a causa dell'estinzione di un incendio in un luogo difficile da raggiungere. Due potenti terremoti hanno scosso l'Alaska, lo stato più grande e scarsamente popolato degli Stati Uniti. Secondo l'US Geological Survey, un terremoto di magnitudo 6.8 si è verificato alle 11.35 dell'11 dicembre 71 km a nord-est dell'area statisticamente isolata di Nikolasky, nelle isole Aleutine occidentali. L'ipocentro dell'elemento giaceva a una profondità di 22 km. Il terremoto più forte di magnitudo 6.8 è stato preceduto da un paio di scosse anticipate solo pochi minuti prima. Un terremoto di magnitudo 6.6 è stato registrato lo stesso giorno alle mezzogiorno e 39, fuso orario GMT, 60 km a nord-est dell'area statisticamente isolata di Nikolasky. Il centro del cataclisma sotterraneo giaceva a una profondità di 11 km. Durante l'intera mattinata si sono verificate una decina di scosse di assestamento di magnitudo 4.0 o superiore. Non c'erano informazioni su vittime, distruzione e minaccia di tsunami. Terremoti sulla terra. Durante il giorno, sulla terra si sono verificati 163 terremoti di magnitudo da 2.0 a 6.8, esattamente dove potete vedere sui vostri schermi. E ovviamente un momento di positività sul canale. Fantastici paesaggi invernali possono essere visti nella provincia cinese dello Shenzhi. Il gelo e le nevicate hanno trasformato la zona montuosa in una vera e propria favola. Cascate ghiacciate e alberi coperti di neve e ghiaccio, modelli sorprendenti e bizzarre figure di ghiaccio attirano numerosi turisti. Secondo i meteorologi, questa bellezza invernale durerà per almeno un altro mese, quindi la regione dovrebbe diventare più calda. Gli uriisti si riversano nei parchi panoramici di tutta la Cina per ammirare i pittoreschi paesaggi invernali. Cascate ghiacciate, montagne innevate e laghi ghiacciati sono solo alcuni di questi paesaggi affascinanti. Dalle montagne yuntai nella provincia centrale dell'Enan alle mostruose montagne del Teian settentrionale, le pittoresche regioni della Cina sono diventate paesi delle meraviglie invernali. Grazie per aver guardato il video. Se vi piaciuto, ricordate di mettere mi piace e iscriversi nel mio canale per essere sempre aggiornati di cataclismi della pianeta. Grazie per aver guardato il video.